Stefano Parrucchieri via Settevalli 206 barra d è lui che oggi insieme allo staff vi fa gli auguri della nostra iniziativa Natale nella tua città. Giovanissimo ma con tanti anni di esperienza cominciando da giovane 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 a fare il gazzone di bottega e questa è la sua storia il suo locale insieme al suo staff. 20 anni di attività sei giovane è cominciato giovanissimo come ragazzo di bottega e adesso hai questo splendido salone uomo e donna e questo è il momento di fare gli auguri come inizia l'attività di Stefano? Inizia nel lontano di Mila con questa passione e la sono coltivata portata avanti ed oggi la mia attività è uno splendido staff e si comincia con 50 mila lire la settimana e si comincia con 50 mila lire la settimana ci siamo messi alla prova e sono contento abbiamo ottenuto molte soddisfazioni questi anni le sto ottenendo con il mio splendido staff. E com'è fare il parrucchiere, fare il barriere perché qui c'è uomo e donna ai tempi del virus? è un po' è cambiato a livello organizzativo ci siamo ormai formati un po' su questo stiamo tenendo duro un anno molto difficile però ripartiamo alla grange per il periodo natalizio fino ad arrivare a capodanno apertura globale apertura tutti i giorni domenica compresa fino al 24 per dare il massimo del servizio ai nostri ghievi con questo vi auguro tante buone feste, buon natale, un buon fine anno, un buon inizio anno da Stefano e da tutto il mio staff da parte di Maria Chiara tanti auguri di buone feste da parte di Antonio auguri di buone feste e buon natale io sono Lucia e vi auguro buone feste e siamo aperti domenica 20 e lunedì 21 vi aspettiamo un bacio grande e alla fine a questo virus ci diamo un taglio no Stefano? assolutamente sì ci diamo un bel taglio a questo virus grazie di tutto